Il Consiglio Competitività oggi ha inaugurato quello che sarà il tema principale dei negoziati quest'anno, che è il pacchetto legislativo Fit for 55, cioè la neutralità climatica da ridurre per il 2030 e per annullarla nel 2050. È il pacchetto legislativo più importante. Quest'anno discuteremo molti negoziati, ma questo è il negoziato, come si suol dire, perché attraversa l'economia, il mondo del lavoro, le questioni del pilastro sociale europeo, l'energia, che è il grande tema anche verso il Consiglio del 21-22. L'attenzione dell'Italia è massima. Noi condividiamo le ambizioni del pacchetto, le difenderemo anche al G20, alla COP26, che si aprirà da qui a poco. Le ambizioni sono fondamentali perché non c'è più da discutere se raggiungere una neutralità climatica, ma come farlo con molto pragmatismo e anche con molte riforme che serviranno all'economia europea. È anche un grande progetto geopolitico che appunto nella COP e nel G20 verrà discusso. Il nostro approccio come governo italiano, confrontandoci con gli altri governi e con i commissari, è molto pragmatico, perché sappiamo che questa è una scelta che rivoluzionerà l'economia europea. Il nostro messaggio è anche molto chiaro. L'industria non è nemica di questi obiettivi, anzi è un alleato indispensabile per realizzare transizione dal punto di vista dell'economia sostenibile a partire dalla grande questione che è quella energetica. Quindi tutti al lavoro in maniera pragmatica, analizzando questo pacchetto legislativo su questioni come l'energia, gli ETS, i nuovi regolamenti che verranno dibattuti, la CIBAM, questa nuova Carbon Border Adjustment Mechanism, tutte le questioni che sono sul tavolo. ambizione e pragmatismo, negoziati intensi per vedere anche l'utilizzo di alcune energie come il gas nella fase di transizione, proprio adesso che con il Next Generation anche l'Italia spingerà molto sulle energie rinnovabili e su una regolamentazione nuova. Questo è un po' il tema, oggi c'è l'esordio alla competitività di questo pacchetto e sarà, come dicevo, il grande tema di quest'anno, ma soprattutto il tema che riguarda il futuro dell'Europa e il futuro del nostro continente sull'ambizione che vogliamo affermare anche a livello globale. Grazie.